E' arrivato in anticipo Fazio, altro pallone verticale verso Dzeko, 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 Dzeko! Si salva la Lazio, grande occasione per la Roma, dopo due minuti Dzeko! Venire in contro e scappare via. Dall'altra parte adesso Salah, occhio alla sua velocità, Salah fino in fondo, Salah, trova la conclusione, Stracoscia! Si allunga ed è c'è il secondo intervento importante di Stracoscia. Arriva il tocco dentro, Parolo, non trova il pallone, allontana Emerson, poi la conclusione della distanza, palla larga. Forse un compagno, ma Lazio che si è attivata. Per un attimo andiamo alla Pinelli, occhio al tocco verso Keita, Keita, posizione interessante, Keita si porta il pallone su un bacino, Keita! 1-0 Lazio, ha colpito Keita! Palla sul mancino, e poi in buca d'angolo, e la Lazio ha in vantaggio. Keita fa un giro davanti alla panchina della Roma, poi va a cercare qualcuno, non so chi. Lunga bene per Keita, occhio alla velocità di Keita, Keita poi scivola, ma non è finita, sta arrivando Parolo, prova Parolo! Scesni! Salva la Roma, occasione per il 2-0. Occhio al movimento di Salah, quindi Strotman che va giù, calcio di rigore. Calcio di rigore. Qui, il scontatto, vediamo, non c'è, non c'è, si butta a terra. Momento importante del match, De Rossi, parte De Rossi, col destro, e c'è il gol! 1-1! De Rossi, sembrava quasi un passaggio, palla nell'angolo, il pareggio della Roma, rigore debolissimo ma angolato. E De Rossi pareggia, 1-1, che prova il numero. Movimento di Salah, fino in fondo, il tocco dentro, e si salva la Lazio ancora con Stracoscia. Sulla grande occasione di Dzeko, palla nell'uno contro uno. Eccolo Lulic col tocco morbido in mezzo, De Rossi che sfiora il pallone, prova ad arrivare, basta, basta, conclusione deviata! 2-1 Lazio, il gol di Basta, che trova l'angolo, al minuto 50, con il mancino. Non ci arriva Scesni, e la Lazio torna avanti. Non ho mai capito se lo so. A volte in maniera fallosa, a volte meno. Occhio al tocco dentro verso Keita, Keita, Keita! Che occasione! Si divore il 3-1 la Lazio. Velocità, è sempre lenta la manovra di Giallo-Rossi. Prova la conclusione della distanza, Emerson, palla che finisce l'arte. Ripartenza Lazio, con Bliglia, che può far correre Felipe Anderson, che può andarsene verso la porta, va col mancino, Scesni! Salva la Roma! D'altra parte, 2-1, Lulic potrebbe andare anche da solo. Lulic, Lulic, apre, Keita! 3-1, 3-1 Lazio, minuto 85. Ha fatto tutto benissimo Lulic, aperto per Keita. E a 5 dalla fine, la Lazio è 3-1, col contropiede perfetto. Palla verso Basta, ancora Basta, che lavora il pallone. Felipe Anderson cerca il cross, si coordina Milinkovic, Savic! Palla sul fondo.